La deputata nazionale di Fratelli d'Italia, Carolina Varchi, interviene nel merito del caso del voto contrario del Movimento 5 Stelle a un suo ordine del giorno presentato in Parlamento sul caro voli da e per la Sicilia. Carolina Varchi afferma «I parlamentari 5 Stelle probabilmente hanno votato senza nemmeno leggere il testo, altrimenti avrebbero visto che il mio ordine del giorno, a differenza di quanto dice Michele Sodano, era perfettamente attinente alla discussione, tanto da essere valutato come ammissibile dalla Presidenza della Camera che lo ha posto in discussione e in votazione. Ancora, ciò di cui parla Sodano in relazione alla finanziaria è un provvedimento diverso, non ancora applicato, che in futuro sarà destinato esclusivamente ad alcune categorie, seppur ampiamente meritevoli di sostegno, che rappresentano una platea minima rispetto all'utenza che affolla i nostri aeroporti. È un primo passo, ma non sufficiente. Ciò che chiedevo io era, molto semplicemente, che il governo avviasse una interlocuzione con Alitalia per migliorare le piano voli, maggiore offerta uguale calo dei prezzi per tutti. La maggioranza non ha voluto assumere questo impegno che avrebbe potuto migliorare la vita a chi viaggia da e per la Sicilia. La proposta di miglioramento del piano voli, peraltro, ricalca la soluzione estemporanea individuata nel periodo natalizio dal Vice Ministro Cancelleri, secondo il criterio che ho riproposto per farla diventare una soluzione più organica. Con l'abbandono di Vu e Ling sono venuti meno centinaia di posti al giorno, con conseguente aumento esponenziale dei prezzi. I parlamentari siciliani hanno perso un'occasione per rafforzare l'azione del loro governo su un tema delicato e trasversale come quello dei trasporti e della marginalità geografica della Sicilia. Comprendo la loro difficoltà nel doversi giustificare davanti a migliaia di elettori, ma ciò non li autorizza a mistificare ciò che accade durante i lavori parlamentari. conclude Varchi. E ascoltiamo adesso la stessa Carolina Varchi in Parlamento. Io intervengo per rimprescare la memoria al collega Sodano, cui mi rivolgo tramite lei, che evidentemente ha votato contro un ordine del giorno senza averlo nemmeno letto, perché se lo avesse letto avrebbe capito che è destinato ad una platea diversa da quella alla quale si rivolge l'intervento che ha prima menzionato. Quindi evidentemente ancora una volta il Movimento 5 Stelle dimostra di avere dei parlamentari e mi dispiace che in questo caso siano i siciliani che stanno in aula soltanto a prestare un bottone su indicazioni che arrivano da altre stanze, ma certamente non da qui. Il mio ordine del giorno chiedeva l'impegno al governo di reiterare la buona condotta del Vice Ministro Cancelleri che già in occasione del periodo natalizio aveva ottenuto da Alitalia l'aumento dei posti disponibili con conseguente, sia pur minimo, calo dei prezzi. Una elementare regola del mercato che nulla ha a che fare con le categorie alle quali si rivolge quell'intervento prima menzionato dal collega Sodano, categorie meritevoli di grande sostegno, ma certamente una platea minima rispetto ai milioni di siciliani che viaggiano da e per i nostri aeroporti. Quindi ancora una volta il collega ha perso la buona occasione per tacere ed inoltre mi permetto di ricordare che se un ordine del giorno viene posto in discussione, in votazione dalla Presidenza evidentemente viene ritenuto perfettamente attinente al tema che viene trattato, che era appunto il decreto all'Italia. Grazie Presidente. E adesso nel rispetto del contraddittorio ascoltiamo l'intervento di Michele Sodano ancora alla Camera. Grazie Presidente. 25 milioni di euro per abbassare il costo dei voli aerei per la Sicilia sono già legge grazie al Movimento 5 Stelle. E' questo opportuno ricordarlo perché la deputata di Fratelli d'Italia, Varchi, ha diffuso una fake news nel suo canale social affermando che noi siamo contrari a una proposta di Fratelli d'Italia su Carovoni. Ma di quale proposta si tratta? Forse dell'ordine del giorno presentato all'interno del decreto San Van Italia? Ebbene, vi rinfresco io una memoria. Legge di bilancio, articolo 124, 125 e 126. Ci sono 25 milioni di euro che per la prima volta vengono stanziati in Italia per la continuità territoriale e per abbassare i biglietti per e dalla Sicilia. Questi sono i fatti. Noi non ne possiamo più di una becera propaganda che non porta questo Paese da nessuna parte, ma solamente i fatti cambiando questo Paese. Collega, lo invito a concludere. Mi sembra inopportuno questa interruzione perché i cittadini hanno diritto a conoscere la verità e non ad essere ingannati ogni giorno da le penzogne. Collega, deve concludere. Grazie, collega. Noi lavoriamo ogni giorno per questo Paese. Grazie, Presidente.